Con danne per complessivi 22 anni e mezzo hanno chiuso il procedimento corrito abbreviato nei confronti di sei imputati dell'operazione Nebrodi. Per altri due, invece, è stata disposta l'assoluzione. L'inchiesta, quella portata avanti dalla Direzione Istrettuale Antimafia della Procura di Catania, è sfociata nel febbraio del 2017 nell'arresto di nove persone appartenenti, secondo gli investigatori, alla mafia operante tra i comuni di Bronte, Cesaro e Magnace, nonché autori di atti estorsivi aggravati dal metodo mafioso. Condanna a sette anni, quattro mesi e 26 giorni di reclusione e 5.467 euro di multa per Giovanni Pruiti. Sette anni di reclusione e 5.000 euro di multa per Antonino Galati Giordano e Luigi Galati Giordano. Quattro anni, otto mesi e 26 giorni di reclusione per Cammello Triscari Giacucco, più 4.000 euro di multa. Per i quattro è anche scattata l'interdizione dei pubblici uffici. Assolti per non aver commesso il fatto, invece, Giuseppe Corsaro e Salvo Germana. Il gruppo di Catania Pietro Currò ha quindi assolto Giovanni Pruiti per i due capi di imputazione, tra cui l'accusa di associazione mafiosa, già esclusa in sede di riesame, insieme ad un episodio di estorsione. Nei confronti di Pruiti, 42 anni, ritenuto leader del clan dell'area tra Cesaro e Bronte, dopo l'arresto del 2004 del fratello Giuseppe, nonché referente del gruppo di Santa Paola Ercolano, i PM Fanare e Saponara avevano chiesto 14 anni. L'operazione Nebrodi, alla quale parteciparono anche i carabinieri di Santo Stefano Camastra, pose fine ad una serie di atti intimidatori ai danni di agricoltori e allevatori, finalizzati a mettere le mani sui loro terreni e continuare così ad apprevvigionarsi dei contributi europei, erudendo l'obbligo della certificazione antimafia imposta dal protocollo Lantoci per le concessioni pubbliche.